Amici di Essenze di Alberto, sono molto felice di fare questo video. Qualche giorno fa ho ricevuto un invito da parte di Lush all'inaugurazione della loro prima perfume library al mondo. Sono rimasto veramente colpito, sia perché sono stato invitato, sia perché io conosco Lush in un modo e non sapevo neanche dell'esistenza dei loro profumi, e sia perché in realtà il mio canale ha tutto un altro taglio, non di skin care, non di altro. Quindi, visto che all'inizio la persona che mi ha invitato non poteva effettivamente dirmi proprio subito perché cosa fosse l'invito, ho passato qualche giorno pensando ma che cosa sarà, perché questo tipo di incertezza si è poi trasformata in una grandissima curiosità. Volevo sapere in tutti i modi che cosa stesse succedendo, proprio perché per me Lush è quello che era negli anni 90. Cioè, quando è stato aperto il primo Lush Store di Milano, per me era, proprio in modo molto trasparente, un negozio veramente troppo profumato che vendeva cose troppo ludiche, quindi mi sembravano poco serie a livello appunto di skin care. Avevo acquistato sicuramente le bombe per la vasca da bagno. E poi anche la questione dei prodotti senza packaging mi ha sempre un po' destabilizzato e non mi ero neanche particolarmente informato perché all'epoca poi non è che ci fosse l'utilizzo di internet che c'è oggi quindi dovevi entrare dentro, dovevi chiedere, dovevi fare. Io sinceramente ero rimasto prevalentemente fuori. Fatta questa piccola anticipazione, quindi quando mi viene detto di che cosa si parla allora decido, ok, voglio provare, voglio andare e quindi prendo e martedì 12 novembre vado insieme a tutti gli altri influencer invitati a Firenze. È stato proprio bellissimo, torno a Firenze dopo tanto tempo, è una città stupenda e la Perfume Library di Lush è proprio vicinissima alla stazione in via dei Calzaiuoli. È divisa in due sezioni, una parte è proprio la libreria che ci ricorda una profumeria di nicchia vera e propria con tanti piccoli dettaglini non so se avete sentito anche gli uccellini, proprio il cinguettio degli uccellini che viene proprio creato attraverso queste casse che vedete. Una seconda parte invece è esperienziale sui body spray ci sono delle vere e proprie docce dove tu puoi entrare per sentire le varie fragranze e tra l'altro ci sono proprio i cult anche di Lush. Ma torniamo alla libreria e quindi al fatto di unire libri e profumi, molto interessante. Il primo tipo di esperienza che si può fare è un'esperienza fatta da soli sarete contenti voi amanti delle fragranze artistiche e odianti del personale di vendita perché questi device che ti permettono proprio, appoggiando il tester, di vedere la descrizione della fragranza. Se invece si vuole essere aiutati, il personale è proprio prontissimo. Allora, quanto stai vestito e quanto mi spiegherai una parte della pelle? Una volta vaporizzata la fragranza abbiamo avuto tempo per poterla sentire sulla pelle per sentire come si sviluppava e lì è stato già il primo momento in cui sono stato colpito perché era la prima volta che sentivo una fragranza della marca. Mi è piaciuta molto. È vero che siamo partiti, non so se avete visto con le stories di Instagram, proprio con la fragranza che è stata addirittura recensita con 5 stelle da Luca Turin. Si vede gli occhi, sentite lì che siete, dove è stata andata? Uno studio, un legno, ho fatto tutto di legno, con qualcosa di cuoio, un cammino... Peccato che ci avesse chiesto di riflettere, diciamo, per i fatti nostri in modo tale da non... come dire... sapete come si fa in profumeria? Se io alla fine vi dico che dentro una fragranza sento una cosa, magari anche se non c'è, voi per un secondino magari la riuscite a sentire. Quindi tutte le persone che stavano con me in quel momento alla fine hanno pensato un po' a quello che stavo dicendo e per questo sono stato anche un po' cazziato. Vabbè, però comunque in realtà è stata bella l'empatia proprio della situazione e più che altro della persona che ci ha guidati in questo piccolo percorso che consiste appunto nella modalità di esperienza. Qualche procedura? C'hai latte bevuto in un tempio. Fantastico! Ma la terza modalità è quella che richiama la teoria degli umori di Ippocrate. Infatti ero molto curioso perché già se ne parlava nella cartella stampa. che trova radice nella medicina dell'antica Grecia. La teoria di Ippocrate, quindi la teoria degli umori. Si credeva che tutto, dalla salute alla natura, alla forma del nostro corpo, a quello che ci succedeva, fosse dominato da quattro umori fondamentali. Malinconico, flemmatico, collerico e sanguigno. Corrispondono appunto ai quattro liquidi principali del corpo che Ippocrate aveva riconosciuto. È una bella citazione questa e si presta anche a una sorta di consultazione molto interessante, anche se in realtà va un po' contro a quella che è la mia modalità, nel senso che sapete che anche io sono alla vendita tutti i giorni, quindi se non si chiede a una persona che profumo utilizzi, partire da come si sente in quella giornata o in quel periodo, per me è un pochino strano. Infatti questa è la domanda che è stata fatta anche a me. Come ti senti? Ultimamente. Guarda le parole che ti ho sentito. Posso guardare? Devi guardare. Sebbene io guardassi la tavola che avevo sotto, che mette appunto i quattro, dei quattro umori, le caratteristiche, non sono stato molto preciso e quindi lui è stato molto bravo comunque a guidarmi, spiegandomi anche che le fragranze da una parte hanno la funzione di accentuare un determinato umore, tendenzialmente se è un umore positivo, oppure al contrario possono agire proprio come correzione di questo umore. Mi è piaciuta anche l'associazione con il mondo del tè, per creare proprio un rituale gustativo olfattivo. Il profumo non solo da avere addosso, ma da annusare anche. E' davvero. Questo vapore è tutto l'essenziale che io comincio a lasciare. Mi è piaciuta forse un po' per il carattere scenografico, un po' meno invece a livello proprio puristico di degustazione del profumo, perché sappiamo che appunto gusto e olfatto sono collegati, quindi comunque il fatto che io stessi bevendo qualcosa ha un po' alterato quella che è la percezione mia del profumo che ho sentito dopo sulla Mouillette. Ma come dire, anche chi se ne frega, nel senso che sicuramente questo tipo di degustazione è fatta proprio sia per stupire, o comunque per quanto può essere intrigante una degustazione di profumo, ma sia per guidare in modo veloce e più immediato sulle fragranze di Lush attraverso proprio l'esperienza della persona che ci fa fare questo tipo di consultazione. Le ho capite, sono riuscito a percepirle, sebbene tutti stessero in quell'ambiente sentendo profumi in quel momento, e mi sono piaciute, quindi comunque le ho riuscito a beccare il mio gusto. Delle tre me ne è piaciuta più una, ma sulle fragranze ho deciso di farvi un video proprio specifico. Diciamo che quello che mi ha colpito della consultazione, ma anche dell'altra esperienza, è proprio come Lush non abbia lasciato nulla al caso. E questo è un atteggiamento proprio quasi della profumeria artistica, quindi mi ha colpito proprio come abbia cercato di entrare più in questo tipo di nicchia, piuttosto che in una profumeria invece più commerciale. Sapete che quando si vanno a sentire le fragranze, il problema è proprio poter portarsi via tutte le mouillette che sono state utilizzate e che magari ci sono piaciute. E loro hanno pensato di omaggiare Firenze con una specie di fisarmonica nella quale si appendono tutte le mouillette e si consegna al cliente. Ma passiamo poi invece all'altro lato del negozio, un'altra esperienza, un pochino diversa, quella dei body spray. Io non li conoscevo, ma sono dei veri e propri cult. Hanno delle profumazioni molto immediate, molto dirette, tra l'altro vengono utilizzati tanti oli essenziali naturali, ma soprattutto colpiscono per i nomi, i nomi sono stupendi. E l'esperienza veniva fatta in queste docce particolari dove si entrava e attraverso il ghiaccio secco e la vaporizzazione del prodotto si poteva sentire. È l'acqua! È fatta! Che cosa c'è? Prego! Dormi! Siamo? Siamo! Siete un po' sporcazione! Dormi! Dormi ragazzi! Facciamo questo! Che buono! Che buono! Buono sì! Un'altra cosa che non conoscevo dell'azienda Lush è la grandissima attenzione nella salvaguardia del benessere degli animali, dei diritti umani e della conservazione ambientale. Tre punti che guidano le scelte aziendali anche nello sviluppo dei prodotti. Non abbiamo attualmente intenzione di acquire nessun contenente in Cina proprio perché il governo cinese obbliga, grazie per la precipitazione, proprio a testare il prodotto sugli animali. Anche se è totalmente safety per altre realtà internazionali. Fa imprensione come dichiarazione perché il mercato della Cina è un mercato immenso dal quale, sapete, tutti stanno attingendo in questo momento. Un'azienda che comunque da una parte ha un risvolto che può sembrare così ludico, così giocoso, in realtà è veramente molto molto impegnata da sempre. Infatti sono presenti delle sovvenzioni a tutti coloro che creano dei progetti sostenibili per salvaguardare proprio questi tre pillar che vi ho appena elencato. La prima perfume library lascia al mondo in realtà è anche la prima libreria a tema profumo in Italia. Infatti sono presenti più di 70 volumi su questa tematica e io ne ho comprati, come vedete, un bel pò, ne ho approfittato. Siamo qui con Matt che ha curato la selezione dei libri all'interno dello store. Insomma, il libro di selezione di questi libri è il libro di Purpose Haze. Era presente anche lui, ma l'intervista non è andata benissimo. Non si riusciva a capire molto proprio con questo frastuono quello che stesse dicendo attraverso il filmato che avevo fatto, scusate. Comunque quello che sta dicendo è proprio il fatto che il proposito di creare una libreria e di associarla ai profumi fosse intanto per veicolare il fatto che Lush sta facendo in ambito di profumi le cose per bene. Dall'altra parte poi lui ha proprio detto che questi libri sono i libri che i loro stessi creatori di profumi hanno letto per creare le fragranze di Lush che sono, vi ricordo, tutte create in-house, quindi non sono date ad aziende terze. E vi avevo fatto vedere che infatti su tutti i prodotti Lush sono presenti proprio le figurine stilizzate di chi ha creato il prodotto. In aggiunta lui sta parlando anche di come siano presenti delle pubblicazioni che raccontano ovviamente la storia dei prodotti Lush perché sapete io ho aperto il canale Senza di Alberto proprio per parlare di come ci siano dei profumi che nascono da delle idee che vengono veicolate attraverso il profumo come prodotto artistico. Proprio su questo punto infatti i profumi di Lush nel loro piccolo in realtà veicolano sempre un'idea o spesso e volentieri sono proprio un modo per comunicare un concetto. Comunque sarete contenti perché andando in quello store finalmente potete mettere le mani su queste pubblicazioni che ovviamente sono in inglese prevalentemente e potete farlo quindi senza doverle ordinare su internet. È un grandissimo passo avanti. Avete provato ad andare nelle grandi catene di librerie e chiedere di un libro sul profumo? Le chiacchiere con Matta sono state interessanti e ci hanno portato anche al lancio che c'è stato in quella giornata e che c'è in questi giorni della prima fragranza attivista della storia che è un giuris di Informatica Senza Frontiere che adesso ci spiega il progetto di Lush per quanto riguarda la fragranza Grassroots. Allora Grassroots prende il nome dalle associazioni di beneficenza dell'Ambitano del Sasso che quindi devolvono i loro proventi, gli scopi benefici che si imprezzano in questo caso tutto il ricavato di questi tre giorni e tre anni è veramente viva, va in Formatici Senza Frontiere. C'è un'aliason interessante che al profumo della nostra associazione perché entrambi per intanto sulla rigenerazione, la rigenerazione promossa da questo profumo è l'economia di cosa circolare, l'alcol utilizzato, l'alcol biologico come il profumo viene prodotto con la fermentazione degli scarti di lavorazione della barbettura del zucchero a circa 30 km di luogo di riproduzione, utilizza anche il geranio coltivato in Kenya, è una pianta che richiede poca acqua per essere coltivata quindi sostenibile e poi ha un sacco di oli essenziali tra cui il palissandro che è anche disinfettante, la notte di vaniglia, è un'ottima fragranza ed è un'anteprima in esclusiva mondiale per la lastra e per questo punto di vista. L'informatici Senza Frontiere invece fa rigenerazione in termini circolarità dell'informazione per recuperare il divario digitale tra chi dovrebbe accedere all'informatica in termini hardware, software e connettività e chi non ce la fa con progetti sia locali che internazionali. E' stato bello poter parlare con Giulie non solo di grassroots ma anche di informatici Senza Frontiere, infatti non conoscevo questo tipo di onlus che tra l'altro vi ricordo di andare a visitare nel sito informaticisenzafrontiere.org, vi metto il link sotto, perché è una onlus molto interessante, perché fa dei progetti veramente efficaci, allestisce da vie infrastrutture, aule, laboratori informatici, supporta realtà locali e forma gli insegnanti di domani, utilizza software gratuiti e adattabili alle esigenze dell'utente, informatizza ospedali e altre strutture complesse, aiuta sia persone con disabilità e sia a portare l'alfabetizzazione digitale a tutti coloro che non possono proprio accedervi immediatamente. Ma quindi ragazzi, ve l'aspettavate? Io non me lo sarei mai aspettato, scusate, continuo a dirlo, Lush non sarà forse così contenta di questo commento, però è così e sono stato molto felice, ho avuto un po' anche l'effetto fionda, appunto quando non ti aspetti qualcosa che poi, pum, sei assolutamente dentro e vuoi scoprire sempre di più, di più, di più, di più, di più. E così sarà infatti in un altro video che vi faccio sui top 5 delle fragranze di Lush che ho scoperto attraverso questa esperienza. Quindi che dirvi, io spero che vi sia piaciuto scoprire il mondo di Lush insieme a me e, come sempre, sottoscrivetevi al canale, accendete la campanellina per essere sempre informati per quando faccio un video e soprattutto andate su Facebook, Instagram e Twitter. Ciao, alla prossima! Ciao!